Giochi mid sotto o sopra? Ah, e che ruolo? Ah, sono bot Sotto, bella scimo Conosci i nokines? Allora, il nome l'ho già sentito Poi mi viene in mente che sia Conosco i noki, ma non so se è la stessa cosa Invade, grande, grande, andiamo Andiamo, vai Spamma di più, spamma di più Eh, scusa, non so scrivere, veloce Ti ho azzeccato la i, però Vai, three men in bed, vai, vai Oh, ma ecco, non viene, bro Vai, 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 ci siamo Ottimo Oh, mate, io gli metto una guarda e gli è lo stilo Ci sta, ci sta Ci arrivi da qui dietro, tipo? Da qui Brand Io andare back Da qui Qui non mi sa, ho flash o? Forse devo venire Da qui ci riesco, mi sa No, no, da qui ci arrivo Ah, no, aspetta, no, non ci arrivo Cioè, perché Ah, fa il giro e qua, fa il giro e qua Fa il giro e qua, che qua hanno guardato, tipo In realtà possiamo anche fargli il super bait, non lo so Se riesci a venire qua Eh, devo pullare qui Vai, dopo arrivo Tu prova lo steal E poi facciamo il super bait Ok Ok Io mi fido di devi Ci provo, ci provo, bro Quanti danni farà al massimo Un centinaio, penso Attenzione Svegliati Dove è finito? Non c'è il jungler Mate, mi sa che Eh, mi sa che È dato dal blu È andato il blu È andato il blu È andato il blu Ma perché è stata con notte È andato Che ti devo dire Tattiche, tattiche avanzate Sapeva che gliela avrei stilato Mi servono soldi Sei pronto a sniperare, te? Ma certo Appena prendo la E perché prima è un po' Sì, sì, sì Ehi Potremmo un po' Tuk Io prendo più soldi possibile Ok Un po' come nella vita reale, vedi Tuk Tuk Vai, vai Bravo, bravo Ok Buono, buono Due HP Figlio di puttana Dov'è, dov'è? L'hai visto? È sotto torre È sotto torre, mate Non so dove Ah Cosa? No Eh Proprio bussi Va dietro la torre Mamma mia Dietro la torre Oh Il brivido e il rischio Un po', vivi un po', scusa No, no, no Voglio vivere Meglio vivere cento giorni da pecore E un giorno da leone Eh Infatti Loro voglio vivere da pecore Beh, in effetti Io ci ho pensato Può essere una pecora Cioè, ma riesci il fine settimana C'è una via di mezzo Ma, eh Cos'è fare esattamente questo? Qual'era la sua idea Nel momento in cui ha iniziato a chase armi Così Non lo so, però Io non ho mana Sappiamo di certo che non era una buona idea Vai, vai Adesso mi attacca Si prende tutto l'aggro di minion Io ho una Q Io non ho nemmeno quella Ma adesso appena livello Inizio a prendere mano Ha cancellato due ad attacchi Vai, vai, è tuo, è tuo Oh yes, baby! Lascia wave così È perfetta Uh Mamma mia Che difficoltà Ok, abbiamo la voce Adesso si inizia a fare sul serio Allora Aspetto queste qua Rimoni Mi raccomando Ah, no Non devi andare di Dark Seal tu Oddio Se volessi potresti anche andarci Ma non so se vuoi Ma perché hanno dato il coso degli addi Il magia degli addi Non so Una volta c'era anche quello dei tank Che c'è più consigli per giocare mid Un c'è più per giocare mid attualmente Boh Che tempi vanno di moda in mid lane adesso Oltre a Nico Non ne ho molte Ecco Ecco A me piace Orianna Orianna Ecco Io direi Boh Le blanche anche se appena stata nerfata Boh Non lo so sinceramente I tempi in meta mid Perché io mid È Jacopo che era partito A trattare dritto in mid Oh Poi siccome non mi smuovevo Di tre ho lasciato per Come facciamo Guys È partito Regà Ecco Sì sono Eccolo Snipe Oh Ehi Eeeh E vabbè Poi Eeeh Se Poi Aram Olè olè Aram Queen fuck Guarda Se vedi ci fosse stata Queen Lui non moriva Capito In uno V3 Ma sì ma infatti È un classico È ovvio Che cazzo vuoi Che cazzo vuoi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Così, ne avevi Ma è così, va Quello non dodgia, vedi Ma Gesù santo Sto slow a cazzo Stacchiamo sto dark armor Ottimo Vado a mettere una ward nel tribush C'è il nostro amico Contro la snipe Quello Tiene un po' di vita Ti aiuto a pushare Io vorrei cercare Miss Fortune, ma purtroppo un po' veloce Eh, mi dispiace dirtelo, ma... Vabbè, picchialo, picchialo È tuo Ma... 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 Double kill Sì Lolo lol Era quello sbagliato, era Ah... Mannaggia Fuck you queen, attenzione Ecco il 0-3 You suck Vedi, forse tutti bravi come sto, ecco Cioè, serve tutto più facile, Jacopo Ma poi perché tu ti sei perso il flash di Jacopo? Quello me lo so perso, effettivamente Ok, inizio ad arrivare bot Ma mi sembra un'ottima idea Quindi, you suck E poi, pinga bot Vai, 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 ci siamo, ci siamo Oh, anche se non le ho le dinde Non fò, quali tende, cazzo? Eh Distratto Dov'è? È su di me What? Eh, dovevo tirarlo via, se no eravamo Cioè, non so Più che altro non sapevo dove eravate voi Noi eravamo lì di fianco Ma non vi vedevo Oh, c'è Brand C'è Brand, c'è Brand Ma quello, ma lascio È stato solo 4-0 Free shutdown È carne da shutdown Tutti su Brand Botte, rissa Vai, vai Oddio, doppio shutdown mi sono preso io Oh, oh, oh Eeeh Ehi Ecco Ehi Fogliadella Bam Ah, ma c'ho anche un bluio Che lo butti No, ti cuore un po' spam Sarai un attimino di pazienza Tieni, tieni Bam Ah, sì, non brocca più lo scotch, mannaggia Rip scotch Ehi Vai, vai, vuoi stare l'altro po' quello lì? Trio botta Non so Non so che sto facendo Bam Ehi, la paura Io recupero un po' di mano Vabbè Intanto ti ilo Che bella di dare con il blu Guardali Tuck Sti 100 HP a botta Vai Ehi, è quello Vai Ancora Mate, guarda Io Vabbè Non c'ho parole Vivo C'è Brand bot Ci sei? Mentre me sto giocata Al meglio Delle mie possibilità Ok Un bello sniper qua Tutti e due lo Mo' rimanano pure gli altri Sto arrivando Sto arrivando Non ho lì Alla mano Sto arrivando Io ho 3000 gold Comunque Non è per dire Oh, stanno qua dietro Cioè Sta qui dietro Ok Oh, ma questo E' qua E' qua Oh Vai, va bene E' così Va bene Va bene Tanto ho sentito Soltanto ping Mentre mi fightavamo Non ho capito Da chi Da qua Va bene C'era Queen Che giustamente Pingava Ehi, Brand bot E' lì davanti a voi Mi sta picchiando Sì, sì, sì Belle sti dici stacchi Io intanto Mi faccio Un Ludens completo Mi faccio Le scarpe complete Ecco fatto Hai visto? Guarda La mia itemizzazione Che sta facendo Qua Kled? Kled? Che sta facendo? Pff What? Sta mangiando Ubanzerotto Baby awake Sorry Sec Ah Ah C'ha il figlio Che rompe il Un padre bronzo Oddio What? Fa tenerezza Mettendo Sì, esatto Non gli dico nulla Dai Non diciamo nulla Poveretto Mi male che Queen La difende Sì, però ci sono Due mid Che tirano giù tutto È fragola Ehi, mi mangio Vai ci sei ci sei Tutti e due tuoi Ma guarda che Perfetto Avevamo in una posizione bruttissima Più che altro No vai ma non c'aveva l'ho avuto Quell'altro Va bene Va bene Va bene Ok Era danno Fakv Nob Chi ce l'avrà? Oh, occhio Brando Ding Non c'è spuglio Non c'è spuglio Mi tu non mi vede più Sì? Sì? Che mi vuoi dire? Grazie mille Ai nice del sub Ti dico Sta bellissima kill E anche questa Te dedico Tutto è per te Arearios Che hai appena fatto il sub In questo momento Grazie mille bro Molto apprezzato Meno male c'è gente Umete Che supporta gli streamer bravi Che urlano davanti al microfono Non quelli che stanno zitti E li conduz Tranzati in croce Il mondo ha bisogno Di eroi come te Vai First hour Guarda il Dark Harvest Guarda il tuo Dark Harvest 3 ci sta Vado a Q One hit 137 danni Aiuto Eh Mate arriva Ok Va bene Ci siamo Cura mi Ok sono dentro Ci siamo Ci siamo Ok Ci abbiamo provato Shutdown Quanto ho dato Mille Eh beh per forza E non con altri 500 Te ne avanzano 500 Eh mate Purtroppo Purtroppo quando sei ricchi Che ci vuoi fare Vai 38 sub Ne mancano 12 Signore e signori Al giveaway Don't get babies Beh Vai in cui A parte che è sopravvissuto Non si sa come È tre livelli sotto Iscrivigli Don't play ranked Altro che Prendiamo il trinket blu ovviamente Per fare le cicchini Vado ma c'è uno volo avuti Ma c'è uno volo avuti Vado ma c'è uno volo avuti Vado ma c'è uno volo avuti Rai, 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 rai Vai, ragazzo padre, vai. Vai così. Vai! Con quel phage lì. Mate, abbiamo 17 kill, di cui 11 le ho io. Potrebbe essere un problema, secondo te? Potrebbe, potrebbe. Non so perché, però come questo ha impressione. Oh, ho fermato Duncan. Guarda Duncan. E dai. Sniper? Oddio! Oh, è così. Vai. Niente aftershock. C'è niente. Preso, preso un altro stack. È a sniper, è in range di kill, il tizio là. Ok. Sei pronto? Oh! L'hai preso. Oh, yes, baby! The sniper. Yeah. Dove sono? Thamken ce l'ho dietro al culo io. Ah, è di là. Mannaggia. Perché si è fermato così? Uh, guarda, Brand, dov'è? Dulosissimo. Io vado per il Brand. Vado in missione. Uh, madonna, l'avevo preditato. Eh no, ha preso la pianta, Brand. Arrivo, arrivo, arrivo. Te lo tiro. Buono così. A me sarebbe mana. Andrei volentieri back, se possibile. Sì, ma guarda, guarda quanto sono loro. Lo vedi? Puoi lasciarlo così? Corri, corri. Aiuto! Miss Fortune è la terza volta e cancella a proprie volte. Ma metti, io non c'ho mana. Mi serve il rabato. Hai ragione. Ecco. Din, din, din. Eh dai. Non doggio. Ma metti, c'è il nocturne. Pronto a curarmi? Non ho tanto mana. Vai, è tu, è tu. Ok, ci sei. Via. Perfetto. Arrivato ecco, attenzione. Tutti gli stack che prendiamo sono buoni. Vabbè, io ne ho 18. È un investimento per il futuro. No, di cosa, di... Ah, pure quello? Beh, certo. Dark harvest. Beh, certo, certo. Qua sarà il magic pen. Ok. We fire him. 0-10. Cosa? Chi? Dove? Ok. Eh, niente, io c'ho 15 kill. Siamo 22-22, ma 15 kill le ho io. Come la mettiamo? Va bene, va bene. Sono dove le volevamo. Perfetto, mate. Allora. Perché stiamo a parlare qua? Stanno, fai il nusher. Poi... No. No. Oh. Sono le ward qui, non c'è. Qua, 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 qua. Eh, dai. Ah. Ottimo. Guarda la torre, mate. Prendiamo sta torre. Uh. No. Che cazzo ha grato i lupi, ma... Gesù Cristo. È mia. Ah. Aiuto, aiuto. Cover me. Jump. Aiuto. No, mate. No. Tuo mamma, una puttana. Non vedo nulla. Ok, adesso lo vedo. Grazie. Vai, cecco che tira dritto. Oh, se lo prendi è gg, eh. Vabbè. C'è Garen che insegue Kled. Normale che non si è girato su di te. Ti attaccasse, Kled. Mi sa che il figlio pure non brillerà. Ecco e... Eh, mi sa di no. Mi sa di no. Vai, hitalo. È fatta, mate. Easy. Hai visto il flash? Hai visto come ha distratto? L'ho visto, l'ho visto. Bravo, ecco. Stai distratto. Comunque è più utile di Queen, anche se non fa assolutamente niente. E io ho quasi chiuso... No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Buono, buono. A me serve assolutamente il Voidstaff. Quanto MR c'ha? Eh beh. Eh beh. Garen non è ancora morto. Un po' di Boots c'ha. I Boots, c'è Tam Kench. È 4-0 Garen. Eh. Facci d'erbolina. Mica se scherza qua, che credi? Ok. Tutto. Adesso faccio dei danni non indifferenti. Vabbè? Non è qua. Ok. Da voi? Beh. Bot. Ok. Va bene, va bene in realtà. Arrivo, Puriote. Che cazzo. Provo a ettarlo da qua dietro, ci arriva. Loop. Ecco. Mate, ci arriva un po' di gente. Ero concentrato. Loop. Ok, io prendo la torre. Sniperato, bro. Sniped. Ho tra poco a cu. Aspetta, aspetta. Guardali, guardali. Guardali. Stanno tutti qua dentro. Sì, sì, sì. Ehi! Mate, andiamo via! Ce l'ha con me, ragazzo. Vabbè. Mio. Mate, è GG. GG. Questo è GG. Sai che senza il Dark Carverster non penso saremo riusciti a vincere, no? Ma la cometa è, come si dice, simbolica per la bottling. Era pure quello. Che cazzo è stato? Lichman o Zonia? Questa è la domanda. Zonia contro lo stronzo volante, vai. Però, allora, tengo l'oggetto da support adesso. Vai, per Nocturne, bella Zonia. Lo prendo io o Reddo? Lo prendi te. Lo prendo, lo prendo. È uguale. Cioè, chi lo prende, lo prende. Sa che lo prende, ecco. Ok, no. Forse ce la faccio. Ma, shut down, esiste lo shut down di 474 gold? Lo vedi anche tu? Sì, what? È vero. Ma che cazzo? Ah, perché è solo derivato solo da farm. Oh, Gesù Cristo. Le ho tolto nove decimi di vita con quella lancia. Oh, Gesù. Oh, Gesù i danni, raga. Oh, Gesù i danni. Oh, Gesù i danni, raga. Mem, Mem. Bella ulti. Quanto ho fatto? Un metro? Sì, non so perché. Ma aspettavo di correre un po' di più. Eh, ma è padre, ma è padre. Un po' di di nulla. C'ha un figlio. Punto interrogativo in chat hall. Grazie, lolloso. Grazie di questo sub regalato. Bella, bro. Tieni, tieni, tieni. Guarda lì, 500 HP. Easy. Grazie, lolloso. 39. Che li aiutano a doggiare? Ragazzo le mountain. Ma quanto curo? C'è, what? Meglio di Soraka, davvero. Irmi, irmi. Dove stai? Tieni. Nino. Ah, ops. Eh? È padre, è padre. È padre, è padre, va bene. È il padre, quindi... Tieni, tieni. Tu non sei padre, però ti curo lo stesso. Però lo diventerai tanto. Tanti Monaco Junior. Già me immagino. C'è già mio fratello. È padre, è padre. Lo salvo io perché è padre, bro. Vuoi vedere come lo salvo? Bam. Lo faccio per il padre! Mamma mia! Ho vendicato il padre... Eh, mi dispiace. Ho dovuto vendicare il padre, se no rapenta per te. C'è, cazzo. Per colpa di Garn, il figlio crescerà orfano. Figlio di puttana. Come ti sei permesso di killare il padre. Ma chi? Figlio di puttana è lui o quel... Scusa. Mi confone sta cosa. Gigi. Adesso facciamo... Aspetta, snipe e snipe in base? Con la tua Q? Sei pronto? Boom! Bam. Eccola! Non si sa come, il pentakill dopo... Oh, pentakill! Ma che cazzo! Ma come? Dopo l'Ace, il padre! Ma me non è nemmeno quello giusto. Era gara in quello che mancava. Ma infatti, ma poi da quando qua si fa pentakill dopo l'Ace? Non... Non... Non si sa come, Ma nu in questo modo, non... E Gobierno...